Ragazzi, abbiamo trovato l'ice pub Per chi ancora non lo sapesse, l'ice bar è una catena di bar presente in molti città europee La particolarità di questi pub è quella di bere e di drink all'interno di un'acella frigo circondati da sculture di ghiaccio Anche il bancone del bar e bicchieri sono fatti di ghiaccio e prima di entrare bisogna indossare guanti e giubbotti termici Fa abbastanza freddo, eh? Billy cosa ne pensi? Anche il buccheri Bukele to' a tu Bukele to' a tu